Asta la vista ragazzi! Io sono Cyborgamer dal distopico futuro ed eccoci qui oggi in un nuovo mitico episodio su Dragon Ball Zeta Kakarot. Eccoci qua ritornati con questo nostro magnifico trio capitanato stavolta dal nostro caro orgoglioso Principe Vegeta. Come vedete siamo qui su una spiaggia, siamo alle isole sudorientali vicino al villaggio Lacco perché abbiamo da fare questa magnifica missione secondaria per Bulma che però potrebbe essere diciamo una perla ovvero una missione particolare speciale perché a quanto pare dovrebbe esserci all'interno di questa missione il capitano Giniu. Ok? Sappiamo che è stato trasformato in una rana e quindi dovrebbe essere stato riportato sulla terra e quindi dovrebbe stare ancora lì a saltare come un ranocchio in giro per la terra e quindi potrebbe essere che verrà ritrasformato in questa missione in un umano diciamo in forma umana come era prima con il suo corpo originale o magari con un altro corpo. Questo non lo so di certo comunque sia è particolare il fatto che la missione riguardi un personaggio del passato della saga di Namek quindi il capitano Giniu che ancora non abbiamo visto abbiamo riportato in vita in passato la squadra Giniu ma Giniu non c'era perché è ancora una rana in questo momento e potremmo vedere delle robe mai viste prima quindi Giniu che torna appunto come rana viene ritrasformato magari ci possiamo combattere contro mi aspetto magari roba assurda sperando che sia una missione davvero intrigante e non merdosa noiosa che ci fa cadere le palle spero che appunto ci divertiremo ci sarà un qualche combattimento tra Vegeta e Giniu insomma con un nuovo corpo o con il vecchio corpo che aveva chissà che cosa si inventerà Bulma per far ritornare il caro Giniu come era prima. Ma vediamo adesso i dettagli della missione allora non abbiamo ancora un nome quindi missione sempre senza nome misteriosa come sempre area isole sud orientali precisamente dove c'è il villaggio Lacco quindi dalla mappa del mondo andate al villaggio Lacco e vicino noterete che c'è il segnalino della missione secondaria di Bulma e poi la troverete sulla spiaggia. Periodo di tempo sempre la stessa roba dopo aver finito la storia principale riepilogo il capitano Giniu sarebbe l'avversario ideale per l'allenamento di Vegeta così debotto cioè questa cosa non mi sembra che abbia molto senso perché il capitano Giniu comunque è rimasto debole ai livelli di potenza della saga di Namek. Primo è trasformato in una rana e perché Vegeta dovrebbe appunto volere il capitano Giniu adesso come nemico da battere in un allenamento cioè per allenarsi con lui. Mi sembra più una roba fatta da Bulma ideata da Bulma che è una roba pensata da Vegeta ok perché non penso che Vegeta se ne freghi nulla di Giniu. Non l'abbiamo visto più dopo la saga di Namek abbiamo riportato in vita in passato appunto la squadra Giniu con Gohan però c'erano solamente tutti gli altri personaggi tranne Giniu che è ancora una rana quindi potremmo vederlo appunto in questa missione secondaria che ritorna nella sua forma originale oppure no perché poi sappiamo che in super è ancora una rana ed entra nel corpo di Tagoma. Quindi poi non so come si evolverà la situazione se sarà canonico tutto ciò o meno cioè questa roba qui non è canonica perché fa parte del gioco però intendo come si incrocerà questa missione qui se appunto torna con il suo corpo originale con un altro corpo con quella roba che succederà appunto nella risurrezione di Freezer. Bisogna pensarci a queste cose ragazzi ci dobbiamo dare una svegliata perché appunto ci potrebbero essere dei buchi di trama tra quello che succede in queste missioni secondarie che comunque andiamo a fare e ce le viviamo con la storia principale dei DLC se ci sarà Tagoma poi vedremo. Ci tocca andare avanti e vedere che cavolo succederà anche se non vedo appunto il senso di far combattere Vegeta contro Giniu che è davvero debolissimo a meno che non è al nostro livello. Vabbè vedremo qui continua dicendo ma non se è una rana quindi già il gioco ci conferma che è ancora una rana riportalo nel suo corpo originale quindi dove lo andiamo a prendere sto corpo originale di Giniu dove sarà rimasto di regola anche la rana nel corpo di Giniu è stata appunto riportata sulla terra da quello che ricordo e quindi ci dovrebbe essere una rana con il corpo di Giniu che se ne va in giro per la terra. Se il tutto è canonico se il tutto appunto dovesse andare in questa maniera quindi potrebbe essere una roba stranissima anche divertente. Ricompense completamento 238.963 punti esperienza, due medaglie D e uno scouter migliorato quindi appunto un dono. Vediamo i progressi storia qui addirittura oggi abbiamo tre box vuoti con i punti interrogativi. Questo significa che abbiamo più passaggi da fare in questa missione secondaria e non solo un combattimento random così tanto per e poi si conclude la missione quindi potrebbe esserci roba intrigante da fare in questa missione a giudicare appunto dai tre box. Comunque fermi tutti prima di cominciare se non volete essere terminate all'istante mi raccomando ragazzi ad andarvi a recuperare se non lo avete visto lo scorso episodio di Dragon Ball Z Kakarot in cui semplicemente con il nostro caro Goku siamo andati a fare l'ultimo allenamento che c'era da fare per sbloccare la sua ultima e fighissima mossa ovvero la sfera Genkidama definitiva che poi abbiamo potenziato e provato contro dei nemici quindi ragazzi vi lascio la scheda qui in alto e il link in descrizione. Perfetto detto questo possiamo assolutamente avvicinarci alla cara Bulma lei dice il sole è stupendo oggi lo noto è una giornata bella serena sicuramente c'è il sole ragazzi in alto quindi molto bello essere tra l'altro con i personaggi sulla spiaggia ci rilassiamo un po' tra l'altro siamo in estate allora vediamo qui possiamo interagire con la macchina per caso con questa piccola astronave no perché a volte con alcune auto si può interagire si possono distruggere con cerchio ma solo con i catorci di certo non con queste astronavi di ultima generazione sicuramente create da Bulma perfetto adesso parliamo con moglie Bulma facciamo parla vediamo un po' ragazzi dai che sono curioso voglio vedere che sta succedendo voglio capirci qualcosa Vegeta dice oh non mi aspettavo di vederti qui infatti a caso Vegeta è arrivato qui non perché c'era la missione secondaria assolutamente no non siamo venuti per quello cioè come se l'incontro fosse casuale è questo che fa ridere ovviamente ci siamo venuti apposta vediamo guarda che io vado dove mi pare cioè ragazzi non so che sta succedendo ma la vedo abbastanza indispettita Bulma non so perché dia questa risposta a Vegeta che è suo marito dovrebbe rispettare l'orgoglioso e mitico Vegeta invece li parla in questa maniera un po' così come se fosse incazzata adesso vediamo il perché ok ho pensato di prendermi una meritata vacanza e ci può stare non ci vedo nulla di male ok che vuoi vediamo che risponde Vegeta qualcuno con cui allenarmi o ragazzi sempre a sto cavolo di allenamento pensa Vegeta mamma mia è andato proprio lui a sottomettersi diciamo a Bulma che stava qui in vacanza per chiedere qualcuno con cui allenarsi non sapevo nulla di queste dinamiche tra Vegeta e Bulma le sto scoprendo adesso ecco comunque sia stavo muovendo le labbra ma appunto non si sente nessun verso nessuna voce partire da Vegeta cioè da Bulma si sente ok però da Vegeta nulla peccato perché così sembra che sia muto e sembra tantissimo che sia una missione secondaria invece se ci metti appunto che parla comunque in sottofondo o un qualche verso già cambia la situazione comunque dice anche nessuno riesce a reggere il mio ritmo su questo dannato pianeta ma come c'è Goku c'è Gohan ti puoi allenare con loro non basta oppure Trunks tuo figlio non lo so ragazzi non gli basta quindi vediamo ecco che ricomincia con le lamentele giusto sì ho saputo da Krillin che avevate lottato contro una specie di squadra speciale su Namek ma c'era anche lei ma come ok non ha visto la scena nell'anime su Namek mi ricordo benissimo che Ginyu prendeva il suo corpo e adesso lei non si ricorda più nulla o comunque è come se quegli eventi non fossero mai accaduti ci può stare che lei non abbia avuto a che fare con la squadra Ginyu direttamente non ci abbia combattuto magari non li abbia visti però mi sembra strano c'era anche lei manco uno scorcio manco li ha visti un pochettino poi non si ricorda del fatto di Ginyu che comunque era uno della squadra Ginyu che gli è entrato nel corpo cioè aveva scambiato il corpo insomma e lei era diventata una rana se non sbaglio cioè è una roba assurda ragazzi vabbè quindi lei non si ricorda nulla a quanto pare ok scommetto che il loro capo è piuttosto forte perché non ti batti con lui e adesso Vegeta darà la risposta ma poi non ha senso sto discorso perché comunque sono nemici che sono stati sconfitti tempo fa perché all'improvviso dovremmo batterci con lui con un nemico del passato che è comunque debole se possiamo che ne so combattere con altri tipi di nemici magari più forti o con dei guerrieri Z tipo Goku e Gohan che stanno sempre disponibili cioè non capisco sta cosa ragazzi eh quindi vediamo la risposta di Vegeta ok Ginyu bah ormai non sarebbe un avversario alla mia altezza ecco che lo dice l'ho detto anch'io stavolta ha fatto un verso di disprezzo Vegeta da quello che ho sentito ok e poi anche volendo non potrei affrontarlo è diventato una rana e sarà esploso insieme al pianeta Namek quindi lui pensa a questo pensa che si è esploso insieme al pianeta Namek e in realtà invece quando tutti i vari Namek erano stati tipo portati sulla terra insieme all'anziano saggio anche anche Ginyu Rana era stato riportato sulla terra insieme a tutti quanti quindi dovrebbe stare qui da qualche parte vediamo però se non ricordo male tutti gli abitanti di Namek a parte Goku e Freezer erano stati portati sulla terra no? esatto me lo ricordo benissimo ve l'ho detto vediamo questo significa che Ginyu potrebbe ancora trovarsi su questo pianeta e ha ragione ragazzi è proprio così infatti me lo ricordo dalle cutscene che lo avevano inquadrato e c'era sia lui con il corpo di Rana e sia se non sbaglio la rana con il corpo di Ginyu entrambi sulla terra che se ne vanno in giro sempre se non mi sto sbagliando vediamo in effetti da quel momento in giro si sono viste delle strane rane magari una di loro è Ginyu esatto ragazzi quindi non solo è stato riportato Ginyu con il corpo della rana ma anche tutte le altre rane di Namek ecco perché dice che ci sono le rane strane in giro vediamo cosa? si sono vicino a casa mia come? vicino alla capsule corpo intende? casa sua è quella no? quindi immagino che le rane e forse anche Ginyu siano lì? chissà vediamo quella volta furono teletrasportati sulla terra anche tutti gli animali di Namek ecco che ci ho azzeccato non lo sapevi? di certo no perché non me l'hai detto prima? infatti incazzato Vegeta ragazzi giustamente perché non lo sapevo? nessuno mi ha mai detto che Ginyu era entrato nel corpo di una rana ma se c'era lei ragazzi? ok quindi vuol dire che quegli eventi lì magari erano filler per appunto allungare il brodo nell'anime e quindi magari nel manga ad esempio non vengono contati poi magari se avete letto voi il manga ve lo fate sapere perché lei appunto da come parla sembra che o non si ricordi o che questo evento non sia mai avvenuto ok quindi come se non si sono mai incontrati quindi immagino che proprio questa cosa sia stata saltata nel gioco non sia mai accaduta infatti non l'abbiamo mai vista nelle cutscene quindi vediamo Ginyu non può essere andato lontano non mi dire che dobbiamo andare a trovarlo a trovare la rana oh mio dio ragazzi già mi immagino appunto la perdita di tempo per andare lì nei luoghi a trovare Ginyu mamma mia vediamo ok non dice nulla potrebbe funzionare pensa tra se e se mentre si mette con le braccia concerte dai questa cosa ragazzi mi sorprende tantissimo per il suo volere per il suo obiettivo addirittura vuole prendere le sfere del drago usarle per non solo ridargli il corpo che aveva prima e potrebbe funzionare e aumentare la sua potenza per farlo diventare forte come Vegeta adesso immagino quindi roba assurda non me l'aspettavo vediamo eh 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 finalmente avrei un degno avversario con cui lottare per migliorare ulteriormente ok ci sta se della sua stessa potenza ha senso la cosa andiamo ok si parte direttamente con questa schermata storia secondaria addestramento livello consigliato 77 il ritorno del capitano questo è il titolo che ci viene finalmente svelato strana bulma che fa l'occhiolino e fa la mano tipo così verso il titolo verso la descrizione anzi verso le ricompense sta indicando le ricompense comunque descrizione e ricompense le abbiamo già lette e qui sotto ci chiede usare le sfere del drago per ridare a Ginyu il suo corpo originale io direi sì ovviamente perché dobbiamo continuare la missione e sono tanto curioso ma il discorso è dobbiamo andare noi a raccogliere le sfere del drago oppure sarà una cosa automatica che farà la missione stessa con una cutscene come appunto per la missione fatta su una mech per Mori quando è apparso Polunga e poi tutto in automatico senza prendere noi le sfere su una mech sono stati esauditi i desideri quindi potrebbe essere o una cosa del genere oppure dobbiamo andare noi manualmente a prendere le sfere chi lo sa ragazzi adesso lo scopriremo facciamo sì perfetto il ritorno del capitano perfetto e la cara Bulma si mette in questa posizione ha fatto un'animazione strana quindi vediamo ok Vegeta dice perché no è ora di riunire le sfere del drago quindi lo fa già in automatico non lo so vediamo ragazzi ok spero che ne valga la pena usa le sfere del drago per restituire il corpo originale insomma al capitano Giniu quindi dov'è che dobbiamo andare adesso allora a quanto pare in questa missione le cose funzionano diversamente ovvero dobbiamo realmente andare a prendere le sette sfere del drago perché questo perché la missione funziona in questa maniera se vado a vedere qui ragazzi dove c'è sfere del drago ci clicco non le abbiamo ancora adesso le andremo a prendere molto velocemente se facciamo lista dei desideri vedete al primo posto voglio restituire al capitano Giniu il suo corpo questo desiderio l'altra volta non c'era non me lo ricordo che c'era quindi si è sbloccato adesso grazie alla missione secondaria quindi non ci resta che andare a prendere le sette sfere e poi esaudire questo desiderio ecco qui ragazzi la prima sfera subito la becchiamo raccogli vediamo quella da sette stelle quindi molto bene eccoci qui nell'orto quindi facciamo raccogli vediamo quella da tre stelle quindi andiamo via ok questa volta sott'acqua facciamo raccogli vediamo da quattro stelle molto bene andiamo via eccola qui dietro i cespugli facciamo raccogli quella da una stella ok andiamo a prendere la prossima eccola qui la nostra prossima sfera dentro appunto questo scheletro diciamo questo teschio di dinosauro gigante come se ci volesse mangiare incredibile facciamo raccogli questa è quella da sei stelle molto bene ne mancano praticamente due e abbiamo fatto in mezzo alle rovine c'è questa volta la sfera incredibile ok bellissime ste rovine sott'acqua non me le aspettavo totalmente ok quindi vediamo qual è questa raccogli quella da cinque stelle ok adesso ci rimane solo l'ultima e abbiamo fatto ed eccola qui ragazzi su questa bella collinetta l'ultima sfera vediamo un po' quella da due stelle lo vedo già da qui quindi subito la becchiamo raccogli vediamo un po' ok il radar si accende ci fa capire che siamo pronti quindi subito andiamo al menu andiamo alle sfere del drago vado e vado a cliccare i desideri che voglio quindi primo desiderio ci metto voglio restituire al capitano il suo corpo c'era la stellina che indicava che era un nuovo desiderio quindi lo clicco ci metto ragazzi comunque anche voglio le sfere z e anche voglio tanti soldi gli zeni servono sempre quindi ce li facciamo dare l'altra volta abbiamo chiesto anche le sfere z e appunto gli oggetti rarissimi per non chiedere la stessa cosa chiedo almeno tanti soldi quindi gli zeni poi per quanto riguarda gli altri desideri che ci sono li chiederemo successivamente con calma quindi facciamo evoca sharon sì assolutamente dai ragazzi momento magico momento epico ovviamente godiamoci il tutto ovviamente è sempre la stessa scena non cambia mai però è sempre magnifico vedere sharon che compare dalle sfere eccolo qua maestoso dai dai ragazzi esaudirò tutto ciò che vuoi benissimo esprimi il tuo desiderio in realtà li abbiamo già scelti i desideri qui funziona diversamente rispetto a xenoverse ad esempio prima li chiedi e poi te li da praticamente prima li scegli con calma li imposti lì i tre desideri e poi quando dai l'ok sharon parla ed esprime i desideri mentre su xenoverse ad esempio differisce abbastanza il tutto perché prima compare il drago con tutta l'animazione poi ti esce la lista dei desideri nel mezzo e poi alla fine esprime il desiderio e scompare mentre qui fa l'animazione di quando compare esprime il desiderio e scompare tutto in un blocco alla fine ok e poi ci appaiono queste schede che ci dicono che appunto i desideri sono stati esauditi quindi risultati desiderio il primo il capitano geniu ha riavuto il suo corpo ed è nell'area occidentale tra poco ci andiamo quindi molto bene vediamo ok risultati del secondo desiderio 20.000 sfere blu rosse e verdi e 20 sfere arcobaleno questa cosa non cambia mai i valori sono sempre quelli andiamo e qui come ultimo desiderio abbiamo ricevuto 100.000 zeni che non sono neanche troppi se ci pensiamo però almeno credo che ogni volta che veniamo dal drago ed esprimiamo questo specifico desiderio sia sempre 100.000 zeni non cambi mai quindi andiamo ok adesso si divide appunto tutto quanto si dividono le sfere e appunto si spargono sul pianeta quindi le sfere del drago si sono sparse per il mondo ma non mi dire ma non mi dire ok quindi andiamo vediamo un po' che succede trovi il capitano genio nell'area occidentale usando vegeta solo vegeta e il gruppo me lo posso portare o no ecco il secondo box ci dice di trovare il capitano ma poi penso che il terzo box sarà tipo una battaglia me la immagino se no sarebbe davvero una palla assurda per procedere con la missione dobbiamo andare in questo specifico punto dove c'è il segnalino si è sbloccato adesso e abbiamo appunto credo un lago perché c'è il pesce sotto quindi perfetto dobbiamo andare in questa direzione subito ragazzi ci alziamo in volo dovrebbe essere praticamente di là quindi subito andiamo e si ragazzi vedo che lì in alto c'è appunto il segnalino blu della missione molto molto gigante ovviamente cerco di evitare tutti i vari nemici che ci sono in giro perché rompono davvero le palle in una maniera assurda perfetto ci siamo quasi arrivati siamo qui in questo lago e c'è genio con il suo corpo vedete si vede anche dall'immagine sono tornato come prima esatto e lì ragazzi avete visto che laggiù c'è la casa di majinbu è la prima volta che la vedo appunto nella mappa ci vado veramente due secondi c'è la casa di majinbu qui non lo sapevo l'ho notato anche dalla mappa ok già sono arrivati Goku e Gohan sono già atterrati cioè questo è il luogo dove c'era la casa di majinbu io non lo sapevo nei pressi diciamo dei west city un po' lontano però diciamo in questa zona qui dell'area occidentale porca miseria sembra di vedere la casa di majinbu di Xenoverse 2 qui è fatta addirittura molto molto meglio molto più realistica ok non credo che chi l'ha costruita fosse sano di mente oh mio dio piccolo momento ragazzi che ci prendiamo per appunto vedere la casa di majinbu non l'avevo mai vista a parte le cazzine no e quella cosa cosa dovrebbe essere dice vegeta fa sempre continuamente commenti ovviamente negativi insomma a parte averla vista nella saga di majinbu durante la storia nelle cazzine non l'abbiamo mai vista fisicamente ok quindi fantastico mi viene il nervoso solo a guardarla quindi più stiamo qui e ci avviciniamo e stiamo attorno e più appunto fa commenti è una roba assurda sembra praticamente un verme in questo caso con dei buchi dei fori con la testa la casa non ha le orecchie come quelle del cane del cane che avevano con mister satan che hanno ancora con mister satan che strano comunque dai torniamo da da geniu ok ragazzi possiamo scendere lui dice ma come ovviamente nelle schede dice parecchie cose ci avviciniamo ci prendiamo un sacco di frutti questo mi piace ok mi accontenterò allora ragazzi abbiamo il caro geniu da solo senza il resto della squadra e me lo aspettavo diciamo sta così praticamente in questa posizione bello cazzuto imponente non è tanto gigante vedete rispetto a vegeta non è tanto alto infatti non è tanto grande rispetto ad altri nemici che abbiamo visto tipo darbula e recold ultimamente che erano delle bestie altissimi davvero imponenti lui invece diciamo altezza piuttosto normale guardiamolo un attimo ragazzi eccolo qua con tutta la sua aura celeste sgargiante dovrebbe essere tipo più debole di noi se non sbaglio vedo una luce immensa ragazzi cioè l'aura è davvero imponente sgargiante e il discorso è che lui è meno potente di noi noi abbiamo vegeta a livello 100 quindi dovremmo batterlo in un niente e immagino che ci sarà la battaglia qualche dialogo me lo aspetto e poi la battaglia sicuramente allora dato che ci dovrebbe essere in teoria la battaglia sempre se non mi sto sbagliando mi prendo questo oggetto la megamassa a livello 5 che ci dà ragazzi più 50% di esperienza per 3 minuti così se ci viene data molta esperienza diciamo molto alta tipo un milione un milione e mezzo come è successo per altri nemici nelle missioni secondarie ci prendiamo in più il 50% che è tantissimo ci prendiamo insomma grazie a questo oggetto un bel po' di esperienza in più quindi lo usiamo su tutto il gruppo ovviamente sì e adesso assolutamente possiamo andare quindi a tu per tu con Giniu facciamo parla vediamo che ha da dirci sentiamo cosa dirà del fatto appunto che è stato riportato al suo stato originale e c'è Vegeta così che gli arriva e vuole combattere sento una musica rock ragazzi incredibile scena assurda Vegeta che sta lì con le braccia concerte lui di spalle Vegeta dice ehi là ok Vegeta dice il capitano Giniu ok bellissimo come è stato realizzato ragazzi lo vedo meglio adesso che sta un po' fermo che non lo stiamo combattendo ancora molto bello con gli occhi rossi tra l'altro le venusse sulla testa davvero figo vediamo che c'è non è da te essere così taciturno ok ho tenuto d'occhio te e i tuoi compagni sin da quando sono arrivato su questo pianeta ovviamente in forma di rana anche se ero una rana però appunto senza farsi accorgere nessuno si ricordava che era una rana ha potuto insomma studiarsi per bene tutti i guerrieri Z tutte le mosse e tutto quanto vediamo so quanto sei diventato forte sarei un idiota a sfidarti ora non mi dire che non c'è la battaglia ti prego il gioco fammi giocare fammi fare la benedetta battaglia oh mio dio vediamo oh ti ringrazierei per avermi restituito il mio corpo ma scommetto che l'hai fatto solo per i tuoi scopi non è così ma certo ovvio eh davvero per spicace ok intanto se ne sta lì sempre con quell'animazione da duro tra l'altro musica rock ragazzi incredibile che spacca in sottofondo non me l'aspettavo davvero godibile vediamo dato che non ho altra scelta ti farò da avversario quindi prima ha detto che non può combattere non è al suo livello però adesso dice che appunto farà da avversario quindi deciditi Gino cosa vuoi fare hai paura sai che non puoi competere con Vegeta o vuoi fare comunque da avversario e prenderti le mazzate non lo so capisci tu cosa vuoi fare ok Vegeta rimane senza parole molto bene vediamo cosa sai fare ovviamente c'è una certa curiosità ragazzi non vedo l'ora di fare la battaglia a Vegeta lo vedo bello pronto e carico senza paura senza timori perché sa di essere più forte ok avanti e si inizia ragazzi si mettono in posizione comincia la battaglia diamoci dentro quindi Vegeta contro Giniu qui sul lago spazza via go and go cura quello che ho visto allora facciamo ragazzi attacco Big Bang subito qua mi sa che lo cancelliamo troppo troppo presto mamma mia ma che è quella roba che era quella roba sull'acqua ragazzi il Big Bang ha fatto effetto anche sull'acqua avete visto l'onda d'urto qualcosa del genere facciamo Super Saiyan 2 immediatamente spaziamo via Giniu eccolo qui che Goku ce lo rispedisce con il Super Saiyan 3 avete visto che bello ok facciamo ragazzi appunto lampo finale vado distrutto ragazzi finisce qua il tutto fine ok un milione di esperienza grado S aumento di livello per Goku e Gohan e anche Vegeta ok sono saliti tutti e tre di livello molto bene lo so ragazzi che è durata poco ma appunto siamo troppo troppo potenti poi siamo in tre abbiamo i personaggi di supporto non vuoi utilizzarli i personaggi di supporto certo che li devi utilizzare si sono fermati qui sulla strada da quello che vedo Vegeta dice vedo che il titolo di capitano non è solo un vezzo sei un buon manichino da allenamento ok vediamo ti ringrazio ok non mi dire che finisce qua tutta la missione con pochi dialoghi che non dicono nulla molto deludente il tutto spero di no vediamo ok arriva Bulma con la sua macchina ragazzi la sua macchina volante futuristica rossa quindi molto bene che poi Bulma che si trova guarda caso a passare da qui con la macchina dove ci sono loro due che stanno combattendo vabbè ok e lei dice beh già finito e io che ero curiosa di vedere come te la cavavi e ragazzi non è colpa mia se appunto Gini è scarso e noi siamo di livello superiore a lui con tanti attacchi super mega potenti potenziati e lo sconfiggiamo in due secondi che colpa ne ho io adesso è una colpa essere forti e sconfiggere l'avversario da quando vediamo quanto sei fastidiosa ok e lui si mette in posizione ma non dice nulla che succede è la mia occasione il tuo corpo sarà mio no ragazzi merda vuole usare lo sdoppiamento insomma lo scambio di corpi vediamo se lo fa Vegeta dice di un po' che pensi di fare comunque siamo in pericolo perché se Vegeta appunto sta distratto riesce a scambiare i corpi e succede un macello dai vediamo ok lui dice ah spaventato perché forse lo ha già scoperto Vegeta ha già capito cosa vuole fare vediamo proprio come immaginavo cosa crepa no ragazzi big bang attack col druginio mi sa che lo distrugge lo ammazza aspetta che succede non lo faccio più non voglio morire ok quindi in una posizione stranissima con questa animazione che sapete che odio ormai perché è molto strano sui personaggi li fa sembrare troppo piegati male magari i personaggi nell'anime tipo Genio non farebbero mai una roba del genere mettendosi in queste pose ridicole piuttosto si farebbero ammazzare o cercherebbero qualche altro modo ma non farebbero queste cose pietose questo mi immagino quindi non vuole morire il big bang attack già pronto con la mano così vediamo non voglio morire ok giusto ci sta che spettacolo penoso quindi non lo ammazza più ha cambiato idea invece di pensare continuamente a prendere il corpo degli altri dovresti provare a rafforzare il tuo che poi questo qui non è neanche il suo vero corpo praticamente è un corpo rubato da qualche altro alieno in passato mi ricordo che ho visto qualcosa online su ciò e adesso me lo sono ricordato vediamo ok non farti più vedere finché non sarai diventato meno patetico parole proprio da vegeta ragazzi parole forti ok sei tu quello che mi ha ridato il corpo solo per allenarsi giusto ragazzi ha centrato il punto non ha mica torto vediamo che risponde però credo che tu abbia ragione quindi si rinforzerà ragazzi si allenerà diventerà lui forte con il suo stesso corpo senza rubare quello degli altri lo vedremo magari si potrebbe sbloccare qualche altra missione secondaria per geniu staremo a vedere vediamo sono il capitano della più potente squadra dello spazio no in realtà ragazzi nell'universo 11 ci sono i pride troopers ok che fanno parte di un altro universo ma quella lì è la squadra più potente che ci sia secondo me vediamo proteggerò il mio orgoglio diventando più forte ok mi sembra un po' innaturale tutto ciò cioè non penso che geniu direbbe queste esatte parole magari pur di non morire forse sì però ecco il tutto è molto forzato e innaturale non mi aspetterei nell'anime che il personaggio si comporti così in modo strano ecco al massimo un personaggio del genere potrebbe fare così solo per fregare vegeta o gli altri personaggi successivamente fare un piano malefico allora sì diciamo che andrebbe bene quindi andiamo avanti oh ora sì che ragioniamo dice vegeta ok fai pure con comodo io ti aspetterò qui ok quindi non lo ammazza lo lascia vivere gli lascia fare sta cosa e quindi si rincontreranno a quanto pare ok ragazzi storia completata perfetto con la faccia di geniu incazzata da quello che vedo ricompense storia 238.963 punti esperienza due medaglie di e uno scouter migliorato molto bene che succede adesso c'è qualche altra cazzin qualcos'altro ok emblema anima di geniu ok mi ricordavo come se lo avessimo già e invece no ragazzi se lo abbiamo sbloccato significa che non lo avevamo ovviamente quindi appunto nuovo emblema anima di geniu lo andiamo ad impostare tra pochissimo vediamo ok tra l'altro visuale in prima persona con vegeta da quello che vedo che succede qualche dialogo qualcosa di particolare lui rimane qui impantanato praticamente sulla strada bull ma non c'è bene le auto della polizia e quindi ragazzi ci parliamo facciamo parla ti supererò vedrai non credo proprio a meno che non diventa un super cattivo potenziato da qualche nemico che viaggia nel tempo come in xanoverse 2 difficilmente appunto potrebbe diventare più forte di vegeta al momento comunque sono arrivati all'improvviso Goku e Gon mi hanno fatto prendere uno spavento incredibile allora questo emblema è ben predisposto per la comunità allenamento infatti abbiamo tutte le varie capienze delle varie comunità e la più alta è quella allenamento solo che siamo a livello 8 su 25 dobbiamo fare dei doni per potenziarlo in più abbiamo tutti gli altri personaggi insomma diciamo i membri della squadra Giniu all'interno di questa comunità quindi mettendo anche Giniu si sbloccherà qualche bonus infatti al primo rigo vedo il bonus squadra Giniu e in più ragazzi c'è un altro bonus chiamato la squadra Giniu in cui ci sono i 5 membri più Boniu il personaggio segreto il membro segreto che comunque esiste lo abbiamo scoperto in questo gioco e ci abbiamo anche tutti gli altri bonus che forse li possiamo attivare tutti quanti tipo meditazione di Giniu ex membro della squadra insomma un sacco di roba a sto punto dobbiamo impostarlo quindi facciamo imposta lo andiamo a mettere subito nella comunità di allenamento quindi qui andrebbe fatto un po' di spazio devo spostare un po' di roba allora innanzitutto ragazzi ci mettiamo Bubbles qui così attiviamo un bel bonus tra Recaio e Bubbles che non avevo ancora attivato quindi vado vediamo che cosa si attiva eccolo qua il bonus Recaio mi è venuta in mente un'altra barzelletta molto bene ok lui e le sue cavolo di barzellette e Bubbles dice oh oh ah ah ok sta ridendo immagino e si attiva questo bonus che si chiama residente del pianeta di Recaio quindi benissimo già una roba l'abbiamo fatta ci mettiamo Recum praticamente qui Barter lo mettiamo qui Gis ragazzi lo mettiamo qua perfetto Guldo praticamente qui Bonio la mettiamo qua adesso vedrete perché e Giniu lo vado a mettere qui adesso vedrete perché stando accanto a Gis e Bonio si attivano altri due bonus quindi vediamo vediamo se ho ragione vado mamma mia ragazzi potenziamento incredibile con tutta la squadra Giniu quindi Bonio dice Bonio ok Recum dice Recum Barter Gis Guldo e poi Giniu noi siamo la squadra Giniu fantastico si stanno anche muovendo tutti i vari emblemi anima bellissimo ragazzi bellissima sta scena ok ah che scemenza a lei non piace il discorso delle varie pose se non sbaglio ce l'aveva detto la prima volta che ci avevamo parlato una roba del genere quindi ok vediamo e si è attivato un altro bonus prima quello totale di tutti e sei poi appunto anche quest'altro bonus che dice che posa patetica basta me ne vado da questa ridicola squadra quindi è come se ci stanno facendo scoprire la storia di Bonio di quando se n'è andata dalla squadra perché lo aveva detto che se n'era andata vediamo il capitano dice che diavolo ok altro bonus che si attiva tra Giniu e appunto Gis se riuscissi a usare il suo corpo e la sua potenza dice il capitano saresti inarrestabile capitano forse si riferiscono a Goku nella saga di Namek lo spero bene quindi ok e quindi ragazzi si sono attivati tre bonus quindi meditazione di Giniu ex membro della squadra la squadra Giniu ok perché l'altro sarebbe squadra Giniu normale con i cinque membri noi abbiamo attivato quello più potente probabilmente con Bonio in più quindi fantastico lasciamo tutto così e quindi ragazzi poi andremo a fare i doni tutto quanto vedo che comunque la comunità di allenamento è bella grossa piena di personaggi e piena di bonus guardate quanti bonus ho attivato porca miseria insomma oggi abbiamo completato questa fantastica e lunga missione di Bulma riguardante soprattutto il capitano Giniu chiamata il ritorno del capitano abbiamo visto che Vegeta aveva bisogno di qualcuno di potente contro cui allenarsi un po' come Goku qualche missione fa nella missione secondaria in cui siamo andati su Namek ho visto questa similitudine tra queste due missioni secondarie comunque sì abbiamo dovuto raccogliere le sfere del drago il che è strano in una missione secondaria abbiamo espresso i tre desideri il primo quello più importante quello di riportare in vita il caro capitano Giniu nel suo stesso corpo originale così poi da combatterci è ritornato lì al lago nei dintorni di West City siamo andati ad affrontarlo e abbiamo visto che il caro Giniu era ben disposto a fare questo combattimento prima non era tanto convinto ha detto che sarebbe stato un pazzo ad affrontarlo e poi ha detto sì posso essere il tuo avversario quindi ovviamente l'abbiamo distrutto in due secondi perché siamo troppo troppo potenti con i vari personaggi sia con i potenziamenti sia con i livelli quindi è durato pochissimo il combattimento la battaglia ma almeno ragazzi abbiamo fatto questa fantastica missione ovviamente Vegeta non l'ha cancellato come succede spesso quando facciamo ritornare in vita i nemici non vengono poi cancellati distrutti sarebbe davvero brutto quindi finale positivo in cui Giniu se ne andrà in giro liberamente si allenerà diventerà più forte per poi affrontare successivamente chissà il caro Vegeta solo che tutto ciò si potrebbe tozzare effettivamente con tutte le varie vicende legate al caro Giniu nella seconda saga di Dragon Ball Super nella resurrezione di Freezer io mi aspetto che ci sarà appunto Giniu trasformato in rana che prenderà il corpo di Tagoma e quindi vedremo tutto ciò quindi non so se ci saranno quelle scene mi auguro di sì ma appunto se ci saranno quelle scene lì come fa questo Giniu a essere quello lì non può mai diventare quello lì cioè che fa diventa di nuovo una rana a caso e poi diventa un soldato di Freezer si prende quel corpo è ovvio che sono due Giniu differenti perché questo qui non è canonico come per il fatto di Freezer che abbiamo affrontato riportandolo in vita non sarà lo stesso Freezer della resurrezione di Freezer ok questo voglio dire quindi ci sono delle missioni che si vanno un po' a tozzare perché abbiamo le missioni del gioco che sono comunque molto divertenti innovative e tutto quanto e poi abbiamo la storia principale di Dragon Ball Super che appunto non c'entra nulla con tutto ciò a quanto pare non si può mai collegare questa storia a quella quindi è un po' strano il tutto è come se ci fossero due versioni dello stesso personaggio comunque in totale devo dire che la missione mi è piaciuta parecchio è stata più lunga più particolare e chissà ragazzi se il nostro caro Giniu questo qui che vediamo alle spalle è diventato buono adesso e appunto davvero si allenerà e non farà più quella cattiveria di scambiare sempre corpi e quindi chissà se lo rivedremo e lo riaffronteremo in futuro a questo punto questo video è giunto al termine mi raccomando ragazzi fatemi sapere un po' che ne pensate di tutto questo episodio fatemi sapere un po' che ne pensate della missione secondaria dei vari desideri della battaglia del ritorno di Giniu in questa maniera assurda fatemi sapere se avete giocato anche voi questa missione e come vi è sembrata insomma fatemi sapere tutto quello che volete io spero che questo video vi sia piaciuto se volete lasciate un like condividete iscrivetevi se non siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò grazie a tutti grazie a tutti